No, dicevo, più che tutto all'estero mi pare che questa Timoshenko abbia questa grande spinta. Cioè c'è un meccanismo di concentrazione di questo capitale, di crisi, che ci porterà inevitabilmente alla guerra. Io lo vorrei segnalare. C'è la Siria, c'è l'Iran e se salta la Siria e salta l'Iran andiamo ad affacciarci al meccanismo di una possibile terza guerra mondiale. E il fatto che la storia si racconti che nelle gravi crisi del sistema capitalistico poi si è arrivati alla guerra come soluzione. Prima guerra mondiale, seconda guerra mondiale. La politica deve vivere la politica. Sì, ma questa politica non conta più nulla. E ho capito, facciamola contare. Questa concentrazione del capitale fa sì che, ad esempio, possiamo dire la verità sul nostro paese, dato che questi signori che hanno, sono lo 0,2%, che hanno la metà delle risorse di tutto il mondo, perché la ricchezza del mondo è nelle mani dello 0,2% della popolazione, questi vanno ad investire laddove il costo del lavoro è bassissimo, quindi terzo e quarto mondo. Il nostro paese, l'Italia, che non è più in prima fila nella cosiddetta guerra fredda, perché non c'è più la guerra fredda, la frontiera si è spostata verso la Russia e la Cina, adesso la Polonia potrebbe avere il ruolo che aveva prima l'Italia, diventa di nuovo un paese provinciale e quindi è chiaro che questo assolutamente veritiero ritratto che la direttrizia dell'Istat faceva ci consegna un paese e ci consegna un futuro per questo paese dove lo schiacciamento verso il basso della quasi totalità della popolazione è una cosa che sta nei fatti. È per questo che servirebbe, lo dico sommessamente, lo dico anche con un senso di responsabilità, servirebbe un cambio di sistema, i paesi dell'Europa e del sud Europa sono schiacciati da questo capitalismo europeo e sono talmente schiacciati che dovrebbero perlomeno tentare di ribellarsi a questa colonizzazione della Francia e della Germania.